arriviamo alla categoria di marchi che probabilmente per voi risulterà più interessante e infatti la riprenderemo quando parleremo della tutela del design alla fine del corso nell'ultima lezione proprio perché appunto come abbiamo già un po' visto nel caso Vespa la forma del prodotto può già di per sé essere considerata marchio cioè viene chiamato appunto marchio di forma un marchio che raggiunge la sua capacità distintiva già nella forma del prodotto stesso un caso appunto classico, i due casi sono questi qua che vi ho fatto vedere ma ce ne sono tanti altri in realtà ma ecco questi sono di forte richiamo nel senso che voi vedete queste due shape, queste due figure bidimensionali senza nessun tipo di altra indicazione anzi in realtà ci sono i colori ma io avrei potuto, anzi avrei forse fatto meglio a farveli vedere in bianco e nero perché già con il verde sulla destra e il rosso sulla sinistra vi ho imboccato un po', vi ho indirizzato fossero stati anche solamente grigi credo che voi già aveste riconosciuto la forma di questa bottiglia della tipica bottiglia della coca cola e dall'altra la forma del alberello che da noi in italia noto come abbre magique perché è stata utilizzata, è stata mantenuta la versione, l'addizione francese ma in tipo gli Stati Uniti, in Inghilterra viene venduto come magic tree tipico d'odorante d'automobile e quindi niente, questi sono classici esempi di marche di forma la forma delle bottiglie è un esempio abbastanza di scuola ci sono tante altre bottiglie, soprattutto quelle degli alcolici, dei superalcolici il vecchia Romagna, il Jack Daniels hanno una forma di bottiglia che anche lì, ancora prima di leggere che tipo di marca l'indicazione del marchio, voi avete già capito di che prodotto c'è dentro lo Sheridan, ce ne sono tanti, i vari brand, i vari whisky il Chivas Regal, hanno tutti una forma di bottiglia molto molto evocativa anche alcune bottiglie di birra ad esempio e il marchio di forma viene trattato nell'articolo 9 del codice della proprietà industriale che è uno di quegli articoli che come abbiamo detto ragiona in negativo cioè ci dice cosa non possiamo registrare e quindi sembra leggendo questa norma che il marchio di forma non sia un marchio legittimo che non generi dei diritti a favore del suo titolare ma attenzione, cioè dice affinché si possa registrare un marchio di forma la forma deve avere di per sé capacità distintiva e non deve ricadere nei casi di scritti l'articolo 9 del codice della proprietà industriale infatti diceva la parte qua che vedete indicata in corsivo non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto cioè la bottiglia non è tutelata in quanto marchio perché ha un collo stretto con un buco da cui esce del liquido perché tutte le bottiglie sono fatte così cioè tutte le bottiglie hanno un corpo e un collo una pancia diciamo un collo qua si impugna, qua si versa e qua esce, qua c'è il tappo perché una bottiglia deve essere una bottiglia, deve fare il suo lavoro cioè di contenere dei liquidi il fatto è che non è una caratteristica imposta dalla sua natura o necessaria ad ottenere un risultato tecnico la forma della Coca-Cola, della bottiglia Coca-Cola è stata studiata per essere evocativa della Coca-Cola e poi nel tempo è diventata evocativa della Coca-Cola e comunque, dice in fondo la slide ciò non esclude la possibilità che la forma, se sufficientemente distintiva possa essere considerata in sé un marchio di fatto e quindi tutelata in quel senso nel senso che questa norma parla di registrazione cioè di registrare un marchio di forma un semplice marchio di forma ciò nonostante, anche se ricado nel divieto dell'articolo 9 quindi non posso registrare quella forma come marchio perché è uno di questi tre casi ciò non esclude che il suo titolare possa a un certo punto vantare riuscire a dimostrare che è stata raggiunta una sufficiente capacità distintiva e quindi essere tutelato come marchio di fatto qua abbiamo delle slide esterne dopo ve le commento a parte però ci stavano bene in questa parte della lezione comunque sono slide di un altro autore di un altro docente linkate cioè questo è un link attivo che potete aprire e trovare separatamente ci sono tutta una serie di case di marchi che però forse è meglio commentare dal vivo perché può essere un po' più interessante per voi comunque lo teniamo come video separato questo è il caso interessante del marchio di forma il mattoncino Lego il mattoncino Lego è stato oggetto di una sentenza trovate indicazioni qua cioè il primo aprile del 96 la Lego società danese che produce giocattoli ha presentato all'UAMI l'ufficio di armonizzazione del mercato interno che abbiamo detto è l'ufficio marchi diciamo europeo una domanda di registrazione come marchio comunitario di un mattoncino giocattolo da costruzione rosso inizialmente l'UAMI ha registrato il marchio quindi l'ha accettato come marchio di forma tuttavia su istanza della Mega Brands che poi è la Mattel che produce mattoncini giocattoli a venti le stesse forme e dimensioni di quelli della Lego l'UAMI ha dichiarato nullo detto marchio quel marchio con la motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino Lego sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione pratica e non ai fini di identificazione quindi il mattoncino non è fatto così perché la Lego l'ha caratterizzato in un certo modo per essere riconoscibile ma perché il mattoncino si deve incastrare cioè i due pezzi devono avere delle caratteristiche proprio fisiche i cerchiolini e i buchini sotto per permettere alle costruzioni di incastrarsi l'uno con l'altro e quindi quello rientra in quell'eccezione che abbiamo detto prima per cui il modo con cui stato disegnato e concepito il mattoncino raggiunge un risultato tecnico però il tribunale allora il tribunale di primo grado ha dichiarato che il diritto dell'Unione Europea osta alla registrazione di forme esclusivamente costituite nelle loro caratteristiche essenziali dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica oppure una soluzione differente però allora a questo punto la Lega la Lego scusate ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia quindi questo è il tribunale di primo grado dell'Unione Europea secondo grado si va di fronte alla Corte di Giustizia la Corte rigetta l'impugnazione di Lego e quindi dà ancora ragione a Mattel e afferma innanzitutto che il divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche e caratteristiche funzionali di un prodotto cioè se noi avessimo concesso questo marchio se l'Unione Europea l'Ufficio dell'Unione Europea avesse concesso questo marchio alla Lego avrebbe dato un potere troppo come dire troppo forte avrebbe dato un monopolio eccessivo rispetto a quello che il diritto dei marchi prevede perché andava a come dire eccedeva nel campo appunto della soluzione tecnica che è un campo presidiato non dal diritto dei brevetti bensì dal diritto dei marchi scusate contrario non dal diritto dei marchi bensì dal diritto dei brevetti scusatemi e quindi vedete cosa dice nella seconda parte della slide quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa appunto dal fabbricante e brevettata su sua domanda la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica quindi se noi concedessimo questo marchio se noi permettessimo a Lego di registrare il bantoccino la forma del bantoccino in sé come marchio sostanzialmente tutte le altre aziende che fanno giocattoli simili basate su costruzione sarebbero come dire incorrerebbero continuamente in violazione di marchi e il marchio il diritto del marchio non può arrivare a tanto cioè non può arrivare a limitare la libertà di produzione di quelle soluzioni così tanto perché al massimo quel lavoro lì lo fa il brevetto per invenzione ma solo se quella lì è davvero un'invenzione e quindi dubito che il mattoncino il mattoncino Lego forse potrebbe essere un'invenzione molti molti anni fa ma visto che è una cosa ormai in giro da decine e decine di anni difficilmente si potrebbe arrivare tanto ormai ormai secondo il diritto dell'Unione Europea le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato vi ricordo che la tutela del brevetto dura 20 anni e poi basta poi diventa di pubblico dominio onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici mentre il marchio come vi ho spiegato è rinnovabile n volte per blocchi di 10 anni e quindi darebbe un monopolio molto molto lungo nel tempo altro marchio interessante altro tipo di marchio interessante è il marchio di colore non mi ricordo se ho un altro design no il marchio di colore è questo questo esempio ma in realtà vabbè ho guardato perché ne ho tanti altri forse in quelle slide dell'altro docente possiamo andarlo a prendere quello più classico quello più più noto è il marchio del motivo Burberry cioè questo è il modulo ripetendo questo modulo Burberry crea le sue sciarpe le sue borse e via dicendo i vestiti i foulard e le caratteristiche sono la proporzione oltre al colore cioè al rapporto dei vari colori beige rosso e grigio marroncino anche il fatto che sono tre righe scure su due chiare che c'è una distanza di un quadrato che creano un quadrato qua e via dicendo quindi la riproduzione di questo modulo porta poi alla registrazione di questo disegno come che poi non è neanche un disegno appunto è un modulo è una proporzione di linee e colori è un diciamo un'unità di linee e colori che può essere riprodotta per appunto diventare poi un tessuto o un vestito ecco questa roba qua diventa è diventata marchio registrato quindi l'utilizzo di un di questo modulo cioè utilizzare questo tema grafico e questo rapporto di colori su dei prodotti di abbigliamento va a violare un diritto di marchio che è di Burberry il marchio sonoro l'abbiamo già citato nella prima lezione sono quei jingle quei marchi che sono appunto un suono non necessariamente un brano musicale non sono necessariamente note sono anche semplici suoni e un esempio che io faccio solitamente è il quel colpo di gran cassa quella specie di molto 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 reverberato che si sente nella pubblicità della Audi no? l'Audi dash auto che è lo slogan e poi c'è questo colpo che richiama all'utente che c'è uno spot una pubblicità che parla di Audi poi ci sono i vari jingle i jingle no quelli che ascoltiamo quando abbiamo un computer che è quello di Mac del sistema Mac OS o quello di Windows quello è un marchio sonoro i jingle della Intel quando noi ascoltiamo uno spot pubblicitario che sia radiofonico o televisivo e si parla di un prodotto che ha dentro un processore Intel parte questo giro di note che appunto è marchio sonoro di Intel e Intel chiede in tutte le campagne pubblicitarie che venga fatto passare in modo tale che entri in testa la gente la stessa cosa è McDonald's nasce come sigla come sottofondo musicale ma poi diventa marchio sonoro se io vi dico questo giro di quattro note il parapapapà salente crescente è il marchio sonoro di McDonald's perché uno si ricorda si ricorda appunto si ricorda il McDonald's la pubblicità con il pagliaccio con Ronald McDonald's o con il che ne so il McDrive e via dicendo quelli appunto vengono reiterati volutamente perché entrino in testa delle persone nei vari spot nelle varie campagne e diventano tutti gli effetti dei marchi che 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 che